Dottore, allora i pazienti come hanno preso un po' queste nuove disposizioni? Come si stanno comportando? Dunque, i pazienti si stanno comportando veramente bene. Gli accessi impropri, cioè chi si presenta così liberamente, in maniera autonoma, senza il rispetto delle norme generali, sono veramente molto pochi. È stato un po' di problema proprio all'inizio, 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 ma poi la cosa è stata immediatamente, si è superata e tutti un po' anche per l'abitudine, perché noi di solito lavoriamo dopo un contatto telefonico, quindi è una cosa abbastanza consueta per noi, per cui diciamo che è raro che qualcuno si presenti in studio se prima non si è ben presentato al telefono, ha presentato il suo caso. Noi ovviamente cerchiamo di dividere molto bene sia per età ma anche per patologie, per così dire. Quindi i bambini piccoli li mettiamo in orari abbastanza separati dagli altri, quindi cerchiamo di lavorare in sicurezza con tutti. Usiamo i nostri presidi un po' per proteggerci noi e un po' anche per proteggere i nostri pazienti. Le mamme cosa dicono? Esprimono preoccupazione? Quali sono le domande che più vi rivolgono in questo periodo? Beh, le mamme sono preoccupate, fanno delle domande di ordine generale sia per la sicurezza dei loro bambini sia per la situazione che si è venuta a creare, il comportamento da tenere in generale nella vita comune che ovviamente ha subito delle variazioni notevoli, c'è poco da fare. Stiamo lavorando e ci stiamo comportando tutti in maniera molto diversa. Il fatto stesso è che dobbiamo stare lontani un metro come stiamo noi e questo già comporta delle difficoltà per tutti.